Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, una donna in fuga verso il paese d'origine con la figlia di 4 anni è stata individuata dai carabinieri. Vediamo nel servizio cosa è successo. Da Avellino in fuga verso il paese di origine con la figlia in tenera età, una donna di origini straniere è stata individuata dai carabinieri di Arezzo. Secondo quanto raccolto dai militari aretini, la donna stava scappando da un passato di violenza. Era stato il marito rientrato a casa senza trovare la moglie ad allertare il 112 spiegando che la moglie stava tentando di raggiungere il loro paese di origine portando con sé la figlia di pochi anni. Subito sono scattate le ricerche. È stata inoltrata una richiesta di localizzazione satellitare che grazie all'opera di coordinamento con le centrali operative dell'arma ha permesso di intercettare il veicolo in provincia di Arezzo. I carabinieri hanno quindi individuato e fermato il veicolo con a bordo la donna e la bambina che sono state portate in caserma. Qui la donna avrebbe raccontato il motivo della sua fuga ai militari e avrebbe denunciato il marito per maltrattamenti. Lei stessa invece sarebbe stata denunciata dal coniuge per sottrazione di minore. Sia lei che la figlioletta sono state affidate ai servizi sociali. Ancora un furto in un istituto scolastico dell'Aretino, un colpo alla scuola Maggiotti di Montevarchi. Nel fine settimana alcuni ignoti sono entrati all'interno della scuola trafugando materiali didattico oltre a computer solitamente utilizzati proprio dagli studenti. Sull'episodio sta indagando la polizia di Stato. E adesso torniamo invece a parlare dello schianto fatale nel quale nel giugno scorso perse la vita una centauro lungo la provinciale della Libia. La PM Chiara Pistolesi adesso ha chiesto il rinvio a giudizio per il conducente dell'autocarro con il quale avvenne lo schianto. Era lo scorso 7 giugno quando Daniele Saltapari perse la vita a 31 anni in un tragico incidente stradale lungo la provinciale della Libia all'altezza di Campolucci, frazione dove il giovane viveva con la sua famiglia. Adesso per la morte del 31enne la PM Chiara Pistolesi ha chiesto il rinvio a giudizio del conducente dell'autocarro che trasportava materiale da giardinaggio con il quale è avvenuto lo scontro. L'accusa è quella di omicidio stradale. Durante le indagini preliminari era stata ricostruita la dinamica dell'incidente esaminando gli esiti dei rilievi della Polizia Municipale, le planimetrie e foto e video di telecamere di videosorveglianza. La PM aveva anche conferito un incarico per un accertamento irripetibile all'ingegner Fabio Canè. Sarebbe così emerso che l'autocarro avrebbe iniziato la manovra di svolta sinistra prima del previsto, tagliando in diagonale la strada provinciale della Libia. Nella manovra non avrebbe prestato attenzione alla vittima in sella la sua motocicletta che stava arrivando da dietro ed era in fase di sorpasso. All'altezza dell'intersezione con la strada comunale di Patrignone l'impatto fatale per il 31enne non ci fu niente da fare. L'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 26 marzo. E ancora cronaca giudiziaria. È stato archiviato il procedimento per la morte della 49enne che nell'ottobre 2022 annegò in piscina. A Stroncarlo sarebbe stato infatti un malore. Nessun responsabile per la morte di Lorenzo Santini a causare il decesso mentre era in piscina sarebbe stato un malore. L'inchiesta sulla morte del 49enne Aretino, recuperato esanime nell'impianto del centro sportivo del Pantano, è stata infatti archiviata. Il GIP Stefano Cascone ha accolto la richiesta della PM Francesca Eva. Non ci sarà dunque nessun'altra perizia, come invece chiesto dai familiari della vittima, se non all'autopsia che dispose il magistrato. I primi ad accorrere sul posto furono i sanitari dell'emergenza urgenza. Per estrarre l'uomo dall'acqua fu però necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Quattro pompieri che si tuffarono in vasca per recuperare il 49enne e altri due li aiutarono a portare il corpo a bordo vasca. Inutili a quel punto i soccorsi, i sanitari poterono solo constatare il decesso. In seguito alla tragedia, quattro persone sono state indagate, il titolare della struttura ed altri tre collaboratori. Secondo l'equipe di medicina legale dell'Università di Siena, a stroncare l'uomo sarebbe stato un infarto fulminante che l'avrebbe colpito mentre stava nuotando. A nulla dunque sarebbero valsi i soccorsi qualora fossero arrivati in tempo. I familiari dell'uomo assistiti dal legale Luca Fanfani avevano chiesto ulteriori accertamenti, ma la vicenda penale adesso è stata chiusa. Nei prossimi mesi si aprirà quella civile. Ed è stata archiviata anche l'ultima battaglia di Samuele Landi che aveva preso avvio prima della tragedia nel Golfo Persico dello scorso 2 febbraio. Il Tribunale di Roma ha rigettato le denunce presentate dall'imprenditore Aretino contro i commissari liquidatori e funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico. Landi aveva esposto assieme al suo legale di segni una serie di anomalie condotte a suo dire illecite che avevano viziato la gestione di Eutelia, azienda della telefonia dichiarata insolvente. E ancora ad Arezzo non sarebbe mai arrivata una conferma del decesso di Landi, anche se il cadavere restituito dal mare alcuni giorni dopo il naufragio sarebbe già stato riconosciuto dai familiari. Voltiamo pagina, oggi ad Arezzo è tornato a riunirsi il Consiglio Comunale tra le delibere che sarebbero dovute essere presentate e discusse due quelle che avevano diviso i partiti della maggioranza che sono state quindi ritirate dagli assessori Manneschi e Merelli, quella relativa alla modifica del regolamento per l'assegnazione delle case popolari e quella sulla vendita da parte dell'amministrazione comunale dell'area agricola diacente all'ex notti d'estate. Sempre in Consiglio Comunale discusse anche le sorti dell'iniziativa popolare con la quale si richiede una rotatoria nei pressi dell'incrocio tra Ponte Buriano, Cincelli e Castelluccio sulla provinciale dello Spicchio. Osservazione che ha già ricevuto il parere positivo tecnico della provincia e adesso positivamente accolta anche dal Consiglio Comunale a seguito dell'intervento del consigliere Renato Viscovo. E in Consiglio si è parlato anche del cantiere di via Fabio Filzi di cui ci siamo occupati proprio ieri con due interrogazioni, quella di Donati e Caneschi per chiedere chiarimenti sul futuro. A rispondere l'assessore Marco Sacchetti. Sulla problematica specifica della cantiere c'è un'interlocuzione continua con il privato proprietario che mira a creare le condizioni affinché i lavori ripartano quanto prima. La proprietà stessa ha garantito che di fronte agli ultimi danneggiamenti interverrà per ripristinare le condizioni di sicurezza. E adesso cambiamo argomento. Arezzo è infatti una delle province più cardioprotette d'Italia con oltre 42.000 persone formate. Stamani nell'ambito del progetto Arezzo Cuore sono state premiate le persone che grazie al defibrillatore hanno salvato una vita. Come dico sempre, quella sera mi sono giocato tutti i soldi che avevo. Quindi il primo è quello di essere stato con loro e non magari con altre persone. Il secondo è che ci fosse un defibrillatore lì a 30 metri. Il terzo è che le persone a cui poi sono stato affidato hanno saputo fare tutti al meglio il proprio dovere. Era lo scorso novembre quando mentre stava giocando a padel Lorenzo è andato in arresto cardiaco a salvargli la vita ai suoi amici che gli hanno praticato il massaggio cardiaco e le manovre con il defibrillatore. Questa esperienza ci ha insegnato ancora di più quanta differenza possa fare averle a disposizione e saperle usare correttamente con la freddezza necessaria. È veramente importante. Un minuto più, un minuto meno fa veramente la grande differenza. Una storia raccontata e celebrata nel corso dell'evento La vita una seconda possibilità promosso dall'Asla Toscana Sud-Est ed ospitato dalla Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia. Giornate come questa io spero che servano a far sì che ci siano sempre più giolli distribuiti in maniera tale che chi ne ha bisogno, come ne ho avuto bisogno io, se ne possa pelare uno, due, tre. Arezzo è una delle province più cardioprotette d'Italia. Sono oltre 26.000 infatti le persone formate nell'Arettino che conta 1.218 defibrillatori sparsi sul territorio. Quasi 16.000 poi gli studenti e gli insegnanti formati grazie al progetto Arezzo Cuore Scuola, nato nel 2014. È nato proprio per l'esigenza di iniziare a formare quello che è la popolazione giovane perché il nostro obiettivo sarebbe quello di arrivare tra un po' di anni ad avere tutta la nostra popolazione formata, formata al massaggio cardiaco e all'uso dei defibrillatori. Tra loro anche Alessandro Dioni, il giovane scout che lo scorso luglio salvò la vita al padre di un suo amico andato in arresto cardiaco. Il ragazzo è stato nonché aiutato e coadjuvato da altri ragazzi, il che ci fa ancora più piacere e hanno subito capito l'importanza e la gravità di quella situazione. Sono intervenuti in modo rapido attraverso le indicazioni della centrale operativa. Altra cosa importante è che la nostra azienda e quindi la nostra unità operativa ha la mappatura dei defibrillatori e ricordo a tutti che è anche un dovere di legge. Questo ci consente una rete, di agire in rete. Defibrillatori e persone formate possono dunque fare la differenza colmando quell'inevitabile vuoto in termini di tempo che intercorre tra la chiamata e l'arrivo del mezzo sanitario. Ricordiamo che i primi danni iniziano dopo 4-5 minuti dall'arresto perché non arriva più ossigeno e da lì se nessuno interviene addirittura dopo 10 minuti le linee guida ci parlano di danni irreversibili. Spostiamoci a Castiglion-Fibocchi dove è stato installato un nuovo eco-compattatore che consentirà il riciclo delle bottiglie d'uso alimentare in pet accanto ad un supermercato. Noi come amministrazione abbiamo puntato fin da subito con la partecipazione dei cittadini con le aziende per cercare di portare a casa dei ottimi risultati e questo di oggi lo sposiamo a pieno questa iniziativa perché si corona e continua il nostro impegno verso l'ambiente e il rispetto dell'ambiente sulle energie rinnovabili ma soprattutto per l'aumento della raccolta differenziata. Come comune siamo passati da un 59% a un 70% di raccolta differenziata non possiamo che sposare questa iniziativa che ci permette comunque di aumentare le percentuali di raccolta di plastica che verranno non più conferite nelle centrali e nelle discariche ma verranno portate a recupero per dare nuova vita alla vecchia plastica. Io credo che sia fondamentale collaborare con la popolazione per recuperare quelli che sono i danni ambientali che in passato sono stati fatti. Tra l'altro questa operazione comporta anche il recupero di poco ma qualcosa, infatti con 200 bottiglie che verranno conferite ci sarà uno sconto di 2 euro da prendere subito alla cassa pertanto credo che sia un'iniziativa che possa essere accettata benissimo. Ricercatori ed esperti di fama nazionale a confronto ad Arezzo sul tema dell'inserimento lavorativo delle persone con disturbi del Neurosviluppo. Giovedì 18 aprile dalle 8.45 alle 17.30 il Teatro Pietro Aretino ospiterà infatti la seconda edizione del convegno NOE che rinnoverà una giornata di formazione, aggiornamento e confronto sui modelli di intervento, buone pratiche ed esperienze positive per garantire l'affermazione del diritto al lavoro. L'iniziativa è promossa dall'Istituto di Agazzi. Parliamo adesso di giostra del Saracino. Ezio Gori lascia porta a Santo Spirito dopo 15 anni da rettore e 13 vittorie in piazza che hanno riportato il quartiere giallo-blu in testa all'Albodoro. Alla base della decisione, definita sofferta e dolorosa dallo stesso Gori e che arriva a un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del consiglio direttivo, ci sarebbero motivi familiari. Adesso porta a Santo Spirito dovrà decidere se affidare il ruolo apicale al vicario Giacomo Maggi o battere strade diverse per traghettare il quartiere verso il 2025. Musica e solidarietà invece alla CAMU, la casa della musica di Arezzo. Venerdì 8 marzo alle 21 un concerto in memoria del professor Giuseppe Pasquini, ginnasta, insegnante, vicepresidente della FIGI, recentemente scomparso. Sul palco salirà il quartetto di Roma e l'incasso della serata sarà devoluto al calcite di Arezzo per sostenere il servizio scudo. Sabato 2 marzo invece alle 17.30, sempre alla CAMU, in scena un nuovo appuntamento con la stagione cameristica dell'Associazione Le Sette Note. Ad esibirsi in concerto il duo pianistico a quattro mani formato dai fratelli Aurelio e Paolo Pollice che proporrà un programma interamente basato su trascrizioni d'opera di Giacomo Puccini nel centenario della morte. Invece il prossimo 2 marzo al Teatro Petrarca ci sarà un ritorno a casa della celebre trenore Vittorio Grigolo Aretino di Nascita. Una strada che non è mai finita, siamo qua ancora per strada, no? Sembra, quindi siamo qui ad Arezzo dopo 29 anni, quasi 30 anni di carriera. La superstar della lirica Vittorio Grigolo torna nella sua città, Arezzo, per un recital. Sabato 2 marzo alle 19.00 al Teatro Petrarca sarà protagonista di una serata su aria ed opera nell'ambito della stagione concertistica a Retina. Un lungo programma che si snoderà tra i brani di Giuseppe Verdi, Ruggero Leoncavallo, Vincenzo Bellini, Gaetano Doninzetti, Giacomo Puccini e Gioacchino Rossini. Nato ad Arezzo e cresciuto a Roma, Grigolo è tra i più importanti tenori del firmamento operistico contemporaneo con una carriera costellata di successi. Termamente convinto della necessità di divulgare l'opera anche ai giovani, con il suo innato estro è stato Alfredo nella traviata alla stazione centrale di Zurigo e Nemorino nell'Elisir d'Amore all'aeroporto di Malpenza di Milano. Per portare, cercare di sperimentare, ma soprattutto di far sì che l'arte del canto lirico, oggi patrimonio UNESCO, lo ripeto, venga appoggiata, venga fatta riconoscere, venga fruita, perché è importante conoscere i giovani che possono ascoltare, ecco, non per radio, perché ovviamente è difficile sentire un'opera per radio, ma che si dia la possibilità di venire a teatro, ecco, gratuitamente, come so che in questa occasione di questo concerto alcune fasce di età hanno il biglietto gratuito. Venerdì 1 marzo alle 21 al Teatro Petrarca andrà in scena a Ballad, due epoche raccontate a passo di danza, l'iconico decennio degli anni Ottanta e l'epoca che stiamo vivendo. in un addittico vincitore del prestigioso premio Danza e Danza come miglior produzione italiana interpretato dalla MM Contemporary Dance Company di Michele Merola. E adesso lo sport, è partito infatti il conto alla rovescia per lo start del campionato italiano Rally Autostorica 2024 che verrà inaugurato dalla quattordicesima edizione dell'Historic Rally delle Vallate e Aretine, il consueto appuntamento di apertura per il tricolore riservato alle regine del passato. La gara organizzata da Scuderia e Turia Sport si svilupperà in due giornate, venerdì 1 e sabato 2 marzo, con otto tratti cronometrati che abbracceranno il territorio di tutta la provincia. A partire saranno oltre 70 vetture. Ed è invece una trasferta internazionale in Inghilterra per il team Iachini. Lorenzo Corsetti e Daniel Avelea torneranno sul ring sabato 9 marzo nella Championship Kickboxing dove saranno impegnati nei primi combattimenti in una stagione in cui dovranno dimostrare la loro preparazione al di fuori dei confini nazionali dopo che nel 2023 sono entrambi riusciti a laurearsi campioni italiani nella disciplina K1. Il team Iachini nel frattempo ha fissato la data della ventottesima edizione del Gran Galà degli Sport da combattimento alle stelle del ring. L'appuntamento infatti è per sabato 8 giugno allo stadio comunale di Capolona. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.